Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo all'inaugurazione della mostra Volte Ritornano Gela in età arcaica che si è svolta ieri al Museo Archeologico Regionale un titolo emblematico per il ritorno di 18 reperti archeologici che dal giorno dopo la loro scoperta avvenuta in città, 13 anni addietro si trovavano a Caltanissetta A volte ritornano Gela in età arcaica, un titolo emblematico per il rientro di 18 reperti archeologici che da ieri si trovano al Museo Archeologico Regionale Forte commozione da parte degli intervenuti all'inaugurazione c'erano tutti, dall'amministrazione comunale alle associazioni culturali dai club service alle aziende private, dagli studenti del liceo classico Eschilo ai professionisti I reperti, tra cui statuette votive e vasellame, si trovavano a Caltanissetta dal giorno dopo la loro scoperta avvenuta in città È arrivato il padrone di casa, il padrone di casa è la statua sulla mia destra che è veramente lui il padrone di casa, che era l'Atena, se si immagina, o quando meno la statua del tempio quindi lui è stato il protagonista per tanti secoli che nel momento in cui è stato trovato è andato via ma ora speriamo che rimarrà qua, almeno convidando delle istituzioni, rimarrà qua per sempre e ci farà compagnia, anzi, proprio nell'immaginario considerando che potrebbe essere Atena che ci darà una mano d'aiuto nel difendere sia a difendere con il suo scudo ma anche nell'occorrenza anche lanciare qualche attacco con la propria lancia Direttore, perché a volte ritornano? È stato scelto questo titolo perché ha un doppio significato il primo è quello semplice, proprio a volte ritornano delle reperte che sono andate via e a volte col tempo possono ritornare ma sfruttando proprio questa frase e aver letto il libro di Stefan Gingale, il primo volume che è proprio A volte ritornano che è riferito a volte ritornano alle paure il libro descrive dei mostri che di tanto in tanto tornano e i bambini la notte non dormivano e a volte ritornano per noi è quello di essere cresciuti con questa paura che a partire dal momento in cui è venuto il petrochimico che ci ha tolto qualcosa di ogni giorno la nostra identità io al bambino per esempio ricordo una Gela diversa di quella che ora e quindi mi sento un po' tolto da quella che era la mia Gela e poi qualcosa ci ha tolto la città l'urbanistica, i palazzinari, i tombarole ma a volte anche le istituzioni hanno fatto la loro e quindi a volte ritornano diventa anche un monito per tutta questa collettività che ha fatto molto perché questi pezzi si tenono qua dentro e quindi come dire stiamo attenti dobbiamo essere più agguerriti più di prima per difendere quello che noi abbiamo e di conquistare quello che ci hanno ancora tolto e tra gli intervenuti ieri sera c'erano anche il sindaco l'assessore comunale Francesco Salinitro e l'archeologo Angelo Mondo sentiamoli ai microfoni di Fabiola Polara a piccoli passi il museo archeologico regionale di Gela torna a risplendere con degli oggetti preziosissimi che ci raccontano un passato glorioso un passo sulla direzione giusta fra poco partiranno i lavori per ingrandire il museo di Gela e poi ricordo che ci sono reperti a Siracusa e a Grigeldo che forse hanno la voglia di ritornare a casa Assessore, quali sono i progetti per il futuro per questa città? Guardi, per la questione reperti noi fin dal settembre del 2015 che abbiamo contatti con la regione che ritornino i reperti da noi abbiamo avuto incontri con il dottor Pennino co-dirigente ai beni culturali della regione stiamo contrattando con dei legali per il recupero di altri reperti è un lavoro non breve comunque un lavoro da fare con molta parsimonia senza troppo can-can perché anche la prudenza è importante perché poi reperti arrivino veramente al di là poi del piacere della promozione e far sapere alla città però il lavoro importante è quello che si fa dietro con calma ma con determinazione L'archeologia è il suo mestiere ma anche è la sua grande passione in questo momento che cosa è tornato a casa? Allora, come hai detto prima te piccoli passi pochi frammenti 18 frammenti per la precisione che però sono la minima parte di una realtà molto più ampia gela ormai da 150 anni ecco grida la restituzione di molti pezzi che hanno preso la via dell'esilo chiamiamolo così però la mostra di questa sera è un chiaro esempio ecco un esempio di una volontà forte ferria di dover recuperare parte del retaggio che purtroppo ecco buona parte è perduta è fuori gela a volte ritornano ecco diciamo che è tutto materiale che già è comunque edito il torso è stato già esposto nel 2004 alpigliatelli per la mostra tattica però ecco i tempi sono maturi ecco per poter recuperare ecco i pezzi che sono stati scavati a gela e che a gela dovrebbero tornare cambiamo argomento rubata al consorzio di bonifica di Enna di staccamento di Barra Franca è bruciata sulla strada provinciale 8 Gela Butera si tratta di una Fiat 1 l'hanno rinvenuta i carabinieri del reparto territoriale che hanno avviato indagini la tematica del bullismo è stata al centro di un incontro promosso dalla sesta commissione consigliare permanente presieduta da Luigi Di Dio e composta da Angelo Amato Sara Bonura crocivisso napolitano Salvatore San Mito la problematica è stata sollevata da diverse famiglie che hanno contattato il presidente tanti ragazzi hanno vissuto e stanno vivendo sulla propria pelle la mancanza di valori sta portando ad un contesto sociale poco opportuno per far crescere in maniera educativa e civile i nostri ragazzi ha detto Luigi Di Dio la commissione ritiene che tali disagi provocati dal fenomeno dilagante del bullismo compreso tra la fascia di età tra i 10 e i 16 anni debbano essere contrastati attraverso la formazione e l'informazione per ristabilire un senso di valori ed un senso civico tra i giovani d'oggi la commissione ha sollecitato l'amministrazione comunale ad organizzare dopo le feste di Natale un incontro all'interno dei vari istituti scolastici al fine di sensibilizzare le fasce a rischio attraverso la distribuzione di un libricino di Chetano Presti lettera dal carcere di Piazza Lanza avente per oggetto bullismo e legalità all'assessore comunale all'istruzione Licia Abela e ai dirigenti scolastici delle scuole medie è stato inviata una coppia del libro questo impegno fa seguito ad una serie di iniziative ed incontri che la commissione sta affrontando sia sul piano del bullismo che per la creazione della consulta giovanile e adesso occupiamoci dell'ennesima richiesta avanzata dal gruppo consigliare comunale di Reset 4.0 al fine di istituire a Gela un tavolo permanente per monitorare gli interventi inseriti nel patto per il sud e affinché le compensazioni ENI inserite nel protocollo d'intesa con il MISE regione ed ENI possano essere spese con più celerità e con la massima trasparenza e diligenza e con la massima trasparenza e diligenza l'ennesima richiesta al presidente del consiglio comunale di Gela Alessandracia giunge dai consiglieri comunali di Reset 4.0 Luigi Di Dio e Francesca Caruso finora dicono nonostante numerose sollecitazioni è stato fatto nulla 15 novembre è stato approvato a delibera del consiglio comunale di istituire un tavolo urgente e permanente ad oggi il presidente del consiglio non ha riunito nemmeno i capogruppi su questa proposta e noi ci teniamo a pungolare questa proposta perché la riteniamo importantissima per la nostra città è un'opportunità che la città non può permettersi di perdere e noi quindi siamo lì con la nostra attenzione a pungolare l'amministrazione comunale e la presidente del consiglio comunale il tavolo permanente non è soltanto sulla raffineria ma è su tutta la progettazione di riconversione sulle opere del patto della Sicilia e anche sulle compensazioni minerale che oggi sono perse nei meambri della regione alcuni giorni addietro il presidente della regione Rosario Crocetta ha riferito che a gennaio partiranno i cantieri a Gela inseriti nel patto per la Sicilia si tratta di 27 progetti per una cifra che ammonta intorno ai 60 milioni di euro l'assessore lavori pubblici ci ha detto che alcuni cantieri inizieranno già da gennaio noi siamo fiduciosi e infatti il nostro tavolo destituire è importantissimo proprio per capire la veridicità di queste cose noi siamo fortemente convinti che il consiglio comunale deve avere un ruolo importante insieme a tutti gli altri gruppi per programmare quella che è la nostra città cosa vuole fare da grande la nostra città noi lo vogliamo fare con forza ma evidentemente sia il presidente del consiglio comunale forse perché sarà tirata la giacca da partito democratico perché vuole fare brutta figura a questa amministrazione o a presidente Crocetta noi non riusciamo a capirlo la lentezza di istituire questo tavolo non lo riusciamo a capire c'è una grave crisi e se non la si combatte immediatamente con l'apertura di tutti i cantieri possibili sia delle compensazioni Eni sia per il patto per la Sicilia sia con le compensazioni minerarie sarà difficile uscirne fuori varie persone a Gela stanno raccogliendo soldi per la realizzazione della tradizionale cena di San Giuseppe prevista a marzo senza essere stati autorizzati lo dice Donnalino di Dio rettore della chiesa di Sant'Agostino a Gela dopo aver ricevuto numerose segnalazioni Donnalino di Dio ricorda che sono autorizzati solo ed esclusivamente coloro che si sono registrati e ai quali è stato rilasciato il permesso invita dunque a dubitare e a segnalare coloro che abusivamente raccolgono soldi nella lettera che accompagna il pass il sacerdote ricorda che la tradizione vuole che dopo il Natale si inizi la questua e che le due finalità della cena di San Giuseppe sono il ringraziamento al Signore per una grazia ricevuta o che si sta aspettando e l'attenzione ai poveri si invitano coloro che hanno intenzione di allestire la tavolata di iscriversi presso la chiesa di Sant'Agostino e di mantenere la sobrietà della cena senza sfarzo e folclore Antonio Giudice ieri incontro importante del centrodestra in prossimità della fisicità natalizia come se tutti i più buoni si fa un patto comune? Assolutissimamente no le prove di dialogo con il centrodestra è già partito subito dopo le amministrative del 2015 ovviamente ieri abbiamo approfittato per farci non solo gli auguri di Natale ma un po' per pianificare diversi incontri che avverranno nei mesi a seguire a quell'incontro c'erano tutte le forze politiche di centrodestra che rappresentano i presidenti nella città di Gela si è parlato principalmente della manifestazione che avverrà il 22 gennaio a Roma contro l'ennesimo governo fantoccio imposto dal PD quindi il governo Gentiloni in concomitanza con la manifestazione noi organizzeremo una nostra manifestazione qui a Gela ma c'è uno centrodestra compatto e faccio anche una domanda più diretta esiste un centrodestra a Gela? Il centrodestra a Gela è sempre esistito solo che abbiamo visto che ogni volta in prossimità delle amministrative il centrodestra si è sempre diviso portiamo adesso avanti come dire questa quest'unione insomma fino alle prossime amministrative per evitare di ritrovarci di nuovo insomma scomposti ma a fare fronte comune per le prossime elezioni Ecco ma cosa criticate l'amministrazione messinese? Ma cosa critichiamo? Penso che messinese durante la campagna elettorale cioè non dimenticiamo che messinese è espressione comunque del Movimento 5 Stelle ha fatto delle proposte ha presentato un programma un programma che fino ad oggi insomma è stato disatteso se noi ci giriamo insomma ci guardiamo intorno anche in prossimità delle feste natalizie vediamo che insomma nella città non si respira per nulla aria di festa Da domani pomeriggio venerdì 23 dicembre la zona traffico limitato nel centro storico di Gela seguirà nuovi orari limitatamente ai venerdì sabato e domenica delle prossime settimane fino al 26 marzo le disposizioni viggeranno anche nei giorni festivi il corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Marconi e via Trieste la circolazione sarà interdetta dalle 18 a l'una del giorno successivo dal lunedì al giovedì invece permangono le fasce orarie che vanno dalle 18 alle 21 fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione cosa conferire bottiglie prive di tappi fiaschi senza paglia barattoli e vasetti bicchiere e brocche solo se in vetro non cristallo vetri vari anche se rotti contenitori vari in vetro per alimenti e non senza tappi e o altri materiali diversi depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto eccoci seconda parte del telegiornale potrà essere visitato fino ad oggi e dal 28 al 30 dicembre dalle 18 e 30 alle 22 e 30 il presepe vivente allestito nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta antistante alla parrocchia Santa Maria di Bettelemme a Gela retta da Don Giovanni Tandurella è stato ricostruito il villaggio di Bettelemme con strutture semplici ed in cui è stata inserita la natività e le ambientazioni tipiche dell'epoca con la rappresentazione di alcuni degli antichi mestieri e la sezione scout Fabio Rampulla di Gela col patrocinio del comune presenta il presepe vivente appuntamento oggi e domani dalle 19 alle 21 presso il centro scout di via Mongibello Anglovia Giulio Siragusa e torna il presepe vivente allestito dalla associazione SMAF sport, musica, arte e folklore preseduta da Gaetano Davide Arizzi appuntamento ai prossimi 25 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte e presso il dipartimento salute mentale di Gela in via Madonna del Rosario diretto da Franco Lauria il personale in servizio ha allestito un presepe per ricordare la natività il presepe può essere visitato da tutti dalle 10 alle 13 dalle 17 alle 20 dei giorni feriali e lo sabato dalle 10 alle 13 l'allegato fondamentale di bilancio al piano triennale delle opere pubbliche è una sorta di mappatura della città con il desiderato ovvero quello che la stessa città dovrebbe essere dal punto di vista urbanistico allegato fondamentale perché la sua approvazione è propedeutica allo strumento contabile la bocciatura equivarrebbe ad una bocciatura del bilancio e dunque il piano triennale 2016 che è stato votato in consiglio comunale reca un emendamento di 11 milioni di euro ovvero l'unione di due interventi uno da 8 e uno da 3 milioni tra le opere che rientrano nel piano la più importante è la chiusura definitiva della discarica stretto prevista prima la bonifica e poi il capping ovvero la rapida copertura dell'area è una delle azioni preliminari adottate per la messa in sicurezza dei siti inquinanti e una particolare per le discariche il capping evita l'inquilamento di farse di falde e dei corsi d'acqua per infiltrazione o di lavamento la dispersione di odori fluidi gassosi e polveri contaminanti nonché la proliferazione di insetti e la presenza di animali in randaggio ed uccelli potenziali veicoli di infezioni è previsto anche l'utilizzo della roccia da scavo per il completamento del giardino della legalità materiale proveniente dai lavori della 640 e poi i lavori per la realizzazione di una paratia tra la scuola Giovanni Verga e via Rosso di San Secondo ed infine i lavori per la strada di collegamento tra le palazzine dell'OIACP che si trovano in via Tommasi di Lampedusa e in via Trigona della Floresta Torniamo a Gela la Confcommercio sta avviando i corsi sulla sicurezza si tratta del corso responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore rischio basso e del primo soccorso di 12 ore rischio basso e medio gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la sederia della Confcommercio Ascom Gela in via Cicerone 104-110 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 c'è anche un numero telefonico 0933 939718 Le imprese del territorio provinciale hanno una buona cultura sul tema della sicurezza e prevenzione dei posti di lavoro anche se c'è ancora molto da fare e quanto emerso dall'indagine promossa da Sicilia Impresa nell'ambito del progetto Lavoro Sicuro volta a sostenere la crescita e la competitività del territorio promuovendo la salute e la sicurezza dei lavoratori 285 in tutto i questionari anonimi che sono stati somministrati su un campione rappresentativo di imprese operanti nel settore agricolo terziario dei servizi del turismo dell'industria complessa e della grande industria dati che sono stati resi noti nel corso di una tavola rotonda alla biblioteca Luciano Scarabelli alla quale hanno preso parte tra gli altri anche delle classi terze e quarte dell'istituto superiore Mario Rapisardi il 91,2% delle imprese a cui è stato somministrato il questionario ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi a elaborare il relativo documento il 93% ha nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione l'88,8% un addetto alla prevenzione incendi con adeguata formazione l'86,1% un addetto al primo soccorso così come l'83,9% delle imprese hanno provveduto alla formazione di base dei lavoratori sempre secondo l'indagine l'82,5% dei lavoratori fa uso regolare dei dispositivi di protezione individuale devo dire che abbiamo come dire registrato e riscontrato un buon feedback rispetto al questionario perché in qualche modo mostra e dimostra una sensibilità da parte delle aziende rispetto al tema della sicurezza i risultati i risultati sono devo dire tutto sommato soddisfacenti ma c'è ancora molto da fare rispetto alla cultura di impresa e alla cultura della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e questo soprattutto per alcune delle attività che riguardano appunto il tema della sicurezza per esempio la nomina del responsabile della sicurezza dei lavoratori piuttosto che il datore di lavoro che faccia il corso di formazione per assumere direttamente la funzione di RSPP che è responsabile del servizio di protezione e prevenzione e soprattutto l'adozione di modelli organizzativi che sono il sistema di gestione della sicurezza che riguarda un po' l'organizzazione delle attività per monitorare al meglio che vengano svolte tutte le attività e gli adempimenti da parte del preposto del datore di lavoro del dirigente e del lavoratore la pagina del cinema è in proiezione alle 19.30 al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela il cartone animato Rock Dog alle 21.30 invece sarà proiettato il film La cena di Natale con Riccardo Scamarcio abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a Gela a Gela a Gela Grazie a tutti